La Nissa rafforza anche lo staff tecnico in vista del prossimo campionato di eccellenza assicurandosi la collaborazione del match analyst Andrea Guarneri che lavorerà a fianco dell'allenatore Alessandro Settineri dedicandosi alla parte tecnico-tattica. I due hanno già lavorato insieme alla San Cataldese e quindi viene riproposta la collaborazione che aveva portato buoni risultati in casa Verde Amaranto. Nel frattempo la società biancoscudata ha confermato il medico sociale Massimo Siracusa e Salvatore Galiano come medico dello sport.